La Giorgio Tesi Group è pronta alla grande sfida di domenica a 100. I biancorossi arrivano in Emilia forti della prima posizione e con 4 punti in più rispetto ai padroni di casa. Sarà una sfida indubbiamente accesa, visti anche i precedenti, con i 5 sconti dello scorso anno nei quarti playoff, tutti tiratissimi ed equilibrati. Gli emiliani, esattamente come Pistoia, hanno mantenuto il blocco italiano e inserito due tra i migliori straniere del girone, come Dominic Arci e l'ex biancorosso Derek Marks, rimasto a Pistoia solo pochi mesi e tagliato a causa di un infortunio, secondo miglior marcatore del girone rosso. Ma Pistoia ha dimostrato di essere squadra tostissima, con una forte identità e una difesa impenetrabile, tanto che è in assoluto la migliore del campionato, con 541 punti subiti, girone verde compreso e un'impressionante media di 60.1 punti a gara. Stiamo facendo un buon lavoro e questo paga e i risultati ci danno ragione, siamo un bel gruppo che lavora ogni giorno, che cerca di dare sempre il meglio, poi quando arriva la partita, è l'ora di tirare fuori gli artigli, li abbiamo sempre tirati fuori, quindi questo paga e continuiamo così. Sì, sarà una partita tosta, mi immagino già difese che la faranno da padrone, ma tante botte da dare, da subire, ma sicuramente daremo tutto. La vittoria di Chiusi però ha dimostrazione che la squadra non abbassa mai la concentrazione dopo la grande vittoria di Udine e andare a 100 comunque da prima in classifica, sicuramente da grande morale e anche forse tranquillità. Sì, la nostra qualità è quella di non avere grossi cali di concentrazione, ci permette di avere sempre abbastanza il ritmo della partita e ci permette molto spesso di portare a casa grazie anche a questa nostra qualità. Piedi a terra, ma che grande ambizione per quest'anno. Facciamo il nostro e pian piano poi vediamo dove possiamo arrivare. Appuntamento quindi alle ore 17 per una sfida che può dire davvero molto sul futuro di una stagione che potrebbe davvero tingersi di bianco-rosso.